E benvenuti al nostro consueto appuntamento con il telegiornale per i sorti. Un 53enne, mentre stava percorrendo insieme con la figlia una traccia di sentiero a Valle del Fosso dell'Anguillaia, nel complesso delle Marmitte dei Giganti, nel gruppo del Monte Sembra e Monte Fiocca, in Alta Versilia, è scivolato nel torrente, riportando vari traumi su tutto il corpo. Soccorso dal personale del Club Alpino Italiano di Lucca e Querceta, l'allarme è scattato tramite la figlia e sul posto sono confluite diverse squadre con 25 tecnici tra le due stazioni, che hanno provveduto ad una lunga operazione di recupero in notturna, mediante tecniche alpinistiche che i soccorritori adottano per le operazioni sul terreno montano. Siamo, come di consueto, ai dati sul coronavirus nelle ultime 24 ore in Toscana, 275 i nuovi positivi. Il numero dei contagiati, rilevati in Toscana dall'inizio della pandemia, sale dunque a oltre 1 milione e 590 mila. Sono stati eseguiti 259 tamponi molecolari e 2 mila 84 rapidi. Purtroppo si registra un nuovo decesso, un uomo di 84 anni, residente nella provincia di Pisa e che porta il totale a 11 mila 672. Siamo ancora alla cronaca. Denunciati dai carabinieri, 5 ragazzi con un'età media tra i 17 e i 22 anni, residenti nella provincia di Pistoia, per una rapina subita da una donna di 85 anni nella sua casa d'Alto Pascio, in provincia di Lucca, il scorso 27 febbraio. Tre giovani, con il volto coperto, infatti, fecero irruzione all'interno della casa dell'anziana e dopo averla spintonata, immobilizzata e averle spruzzato, spray urticante negli occhi, rubarono i gioielli che aveva indosso. In vista dell'incontro al Ministero del Made in Italy per la vertenza GSV di Piombino, in programma il 27 aprile, come parlamentari PD ci siamo impegnati sia a predisporre interventi parlamentari, una risoluzione, un question time, eccetera, per sollecitare il governo a sbloccare questa pesante situazione sia ad accompagnare il percorso della vertenza. Lo ha scritto nel suo profilo Facebook la deputata Dem Laura Boldrini, che insieme ad una delegazione di parlamentari del PD ha partecipato ad un incontro del Consiglio di Fabbrica delle Acciaierie di Piombino. Un distributore, facendo parte della rete commerciale di una primaria compagnia petrolifera, con un punto di vendita a Volterra, in provincia di Pisa, che da anni avrebbe omesso di dichiarare ricavi per oltre un milione e mezzo di euro, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza. Il distributore avrebbe così omesso sia le imposte dirette che l'IVA dovuta. Il corteo di tir e bus in programma domani sulla superstrada Firenze-Pisa-Ligorno, organizzato dalla CNA contro l'intenzione della Regione di riscuotere un pedaggio dai mezzi pesanti, si svolgerà di sabato per non creare infatti disagi al traffico pendolare. Non entrerà in nessun centro abitato, ma transiterà nella strettissima osservanza delle regole del Codice della Strada. L'intento è quello di non creare disagio agli utenti della superstrada, ma sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione. Queste le parole del Presidente del Trasporto Merci della CNA, Mariano Gagliano. È stato pubblicato un nuovo avviso pubblico da 16 milioni di euro per la sperimentazione dei servizi Mobility and Service, la mobilità innovativa che permette ai cittadini di usufruire di diversi mezzi di trasporto pubblico e privato attraverso un'app con cui possano pianificare e pagare gli spostamenti. Lo ha comunicato il Dipartimento la trasformazione digitale, spiegando che dopo il successo dei primi avvisi che hanno portato prima alla selezione di Milano, Roma e Napoli e poi di Bari, Firenze e Torino, vengono così stanziate nuove risorse del PNRR. Torniamo alla cronaca. Arrestati ad Aulla, in provincia di Massa, dai carabinieri, due fratelli di 39 e 36 anni per spaccio continuato di cocaina e hashish, sfruttando la loro abitazione. Uno di loro era già sottoposto alla detenzione domiciliare e dovrà rispondere anche di evasione continuata. L'attività di spaccio è emersa anche grazie alle segnalazioni di diversi cittadini che vedevano un continuo andirivieni in una certa zona del centro cittadino. Le indagini hanno svelato una mole di cessioni di stupefacenti, circa 270. Vogliamo fare di Firenze un polo della formazione negli hotel. Così, il sindaco Dario Nardella, dal palco dell'evento del gruppo LEVM organizzato nel capoluogo toscano. Firenze, ha detto Nardella, vuole investire tutte le energie che ha nella formazione. Dobbiamo fare un vero polo utilizzando le esperienze e anche degli immobili che abbiamo. Lo studio Arup, che ha vinto il concorso internazionale per il nuovo stadio Franchi, ha realizzato più di 50 strutture nel mondo. Il progetto del nuovo stadio a Firenze è molto bello, anche più bello dello stadio di Poznam, con tutto rispetto perché ha una grande storia, la storia dell'architetto Nervi e avrà una grande funzionalità. Lo ha detto sempre il sindaco Nardella, a proposito del restyling del Franchi e dell'auspicio del giocatore della Fiorentina, Bonaventura, che dopo il successo di ieri sera in Conference League a Poznam, si è augurato di poter avere a Firenze un impianto bello come quello polacco. Sulla mia maggioranza regionale non temo che la rottura nel terzo polo possa avere effetti perché c'è un rapporto consolidato e di grande determinazione a portare i programmi avanti di Italia Viva. La vicepresidente Stefania Saccardi lo ha detto e lo ha confermato anche il consigliere Scaramelli insieme a Sguanci. Tutto questo nelle parole del presidente della regione toscana, Gianni, a margine di una conferenza stampa. E prima di concludere, uno sguardo al meteo di domani, sabato in Toscana. Tempo variabile, perturbato, con rovesci sparsi e qualche temporale. Venti deboli moderati dai quadranti meridionali o orientali. Mari molto mossi sul settore centro-settentrionale, mossi a sud. Temperature in lieve aumento le minime, in lieve calo le massime. Ed è tutto per questa edizione, grazie di essere stati insieme a noi e appuntamento a domani. Arrivederci.